Un convegno sul disagio in famiglia, noi ne parliamo con il dottor Giuseppe Trucchi, neuropsichiatra dell'ASL in Periesi. Allora, innanzitutto il perché? Ma qualche mese fa abbiamo avuto l'idea di organizzare questo convegno alla luce della gravissima crisi economica che sta attraversando il nostro paese, che si ripercuote pesantemente sulle famiglie, specialmente quelle con problemi di salute, con bambini disabili, con separazioni conflittuali e cose di questo genere. Ecco, quindi oggi quali consigli potete dare? Dunque, oggi tanto abbiamo fatto una mattinata dedicata ai nostri operatori e gestita dal dottor Foti e dal dottor Degola, che sono operatori esperti nel settore del disagio infantile, proprio come formazione agli operatori per affrontare meglio queste problematiche. Oggi pomeriggio avremo il dottor Grosso del gruppo Abele di Torino e una tavola rotonda di parecchi operatori, proprio per esaminare da vari punti di vista le problematiche non solo economiche, ma anche sociali, psicologiche, affettive esistenti nelle famiglie. Questo è un problema, diciamo, purtroppo in crescita? Ma è un problema in crescita, perché sono in crescita le separazioni conflittuali, sono in crescita purtroppo i casi di maltrattamento minorile. E la crisi economica si riflette appunto pesantemente sulla sofferenza interiore dei partecipanti alla famiglia e quindi di conseguenza crea meno facilità di poter affrontare le problematiche esistenti. Quindi sono sempre i più deboli i bambini a pagare? Sono i più deboli, quindi certamente i bambini in primis, le donne, non è il caso che io sottolinei gli episodi di violenza contro le donne, di femminicidio, eccetera, e anche gli anziani che nella famiglia, logicamente, con difficoltà possono essere gestiti proprio per via di tutte queste situazioni di difficoltà che si vanno ad assommare. Siamo con Mauro Bruzzone, vicepresidente di Copp Liguria. Allora è la Coppa a sponsorizzare un evento importante, quello che riguarda il disagio in famiglia? Noi ci occupiamo da molto tempo del tema dei giovani, dei ragazzi, ogni anno incontriamo con le nostre attività didattiche totalmente gratuite per la scuola circa 15.000 ragazzi e svolgiamo anche numerose altre iniziative sui temi della fragilità della famiglia, delle persone con diverse iniziative. una, la più recente, è la costituzione di un gruppo di lavoro e di una sede di iniziative in Genova che contiamo poi gradualmente di poter estendere su tutta la regione proprio per il sostegno della famiglia nella fase di aiuto alla crescita dei ragazzi. La crisi che insomma ha colpito anche il nostro Stato, quanto sta influendo con questo? Ma la crisi, se la vediamo dal punto di vista economico, ovviamente influisce soprattutto su alcune categorie di consumi, sui beni semidurevoli e durevoli, anche in parte sull'alimentare ma in misura minore, anche grazie alle azioni che si fanno di forte promozionalità. dal punto di vista sociale, quello che si percepisce è naturalmente una crescente difficoltà delle famiglie, tant'è che mettiamo in campo delle iniziative mirate, per esempio quella del riuso di zaini usati ma ancora utilizzabili in accordo con associazioni di volontariato o quella che faremo nella fase pre-apertura del nuovo anno scolastico con una sorta di banco non alimentare in questo caso ma di prodotti necessari per la scuola. Qui con noi c'è il magistrato del Tribunale di Minori di Genova, Giuliana Tondina. Allora oggi si parla di disagio in famiglia e sono sempre i più deboli, le donne e i bambini a rimetterci. Sì, questo è assolutamente vero, il lavoro che il Tribunale per i minorenni fa è quello di cercare di intervenire nelle situazioni sostenendo la posizione dei bambini, difendendo i loro diritti e anche sostenendo la ripresa, nei limiti in cui ciò è possibile, del buon funzionamento delle capacità genitoriali. Questo è lo scopo della nostra azione secondo le norme di legge ed è quello che cerchiamo di fare. Ovviamente non in tutte le situazioni questo può verificarsi, allora si rende necessario qualche intervento maggiormente incisivo sulla potestà dei genitori. Questo è un allarme sociale? Ma io direi che certamente l'attuale periodo di crisi ha aumentato le difficoltà delle famiglie. non direi che sia una situazione così diversa da quella degli anni precedenti. Il disagio è sempre presente e secondo me non bisogna affrontarlo né con allarmismi né con atteggiamenti squilibrati. Quello che è necessario secondo me è una presa di posizione da parte delle autorità pubbliche in favore di attività di sostegno e di prevenzione perché è sempre meglio che ci sia una prevenzione, un sostegno all'inizio del disagio piuttosto che un intervento quando i danni si sono fatti e consolidati. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti.